In 1 agosto è decimata la provincia di Ieri, dove riesce attestamente il numero massimo di attività di servizio e di pari 15, di cui numero 1 attività deve essere rilasciata per tutta la terzata anni di intercosto di votatori di etica di particolare capitale. Dunque oggi noi facciamo un altro che è una presa d'atto di questa modifica di desegrazione e da oggi, entro 30 giorni, la dobbiamo rimandare alla provincia di Ieri. E poi ovviamente dopo questo il suo app predisporrà il bando per assegnare a queste altre 7 autorizzazioni, 6 più 1 per il portatore di etica, che avevamo deliberato, questo consenso l'ha deliberato nel 2009. Grazie. Dunque, ieri mattina, quando sono andato a legge degli atti, mi sono ricordato che esisteva il noleggio di questa conconducente al portatore di etica. E allora, per evitare di incorrere in una sanzione parcheggiata, una macchina magari miscaleva con il compilio, dico adesso chiamo, per cui ho cercato di sapere dove stanno queste autoventure di noleggio conducente.